Buongiorno, bentornati. Parliamo del corso di Rete Telegram, la classe l'ultima l'ho riaperta perché ho avuto richieste e penso che si faccia prima a aprire di nuovo la classe attualmente in corso, dove c'è già un po' di contenuti, piuttosto che prendere una nuova perché così almeno si velocizzano anche un pochettino, visto che avete tempo purtroppo per usufruire almeno trovate già un po' di contenuti. Voglio sottolineare alcuni aspetti relativi alla situazione in cui ci troviamo e al futuro davanti al quale sicuramente ci troveremo. Il grafico che avete visto come copertina di questo video, se qualcuno ci ha fatto caso, è il grafico del traffico di rete, del traffico dati, che sta passando nell'interscambio di Milano, quindi uno dei nodi più importanti delle telecomunicazioni e come vedete tutti è molto aumentato da quando siamo tutti in questa situazione d'emergenza perché tantissima gente lavora da casa e quindi è aumentato lo smart working, è aumentato il lavoro da casa e non dagli uffici e quindi c'è più necessità di telecomunicazioni. Niente sarà più uguale a prima e questo non lo dico io, basta che accendiate la radio o guardate la televisione e ci sono tantissimi personaggi dell'economia, della finanza, del mondo tecnologico che lo sostengono. Il modello di lavoro da remoto, tante cose cambieranno, siamo di fronte ad un evento, penso di portata talmente elevata, secondo solo dalla guerra mondiale, l'ultima ad oggi non penso che ci sia stato niente di altrettanto sconvolgente. Quindi la mia domanda che voglio fare a tutti è pensate davvero, pensate davvero che non sarà più necessario conoscere bene le retipi? Pensate davvero che un minimo di conoscenze, ovviamente quelle che sono necessarie per creare una rete wifi stabile in un appartamento, in un piccolo ufficio, quelle che sono necessarie per gestire un minimo la connettività dei vostri clienti, pensate davvero che non siano più indispensabili? Pensate davvero di poter deputare ancora questo lavoro alla mincosmanettone? perché per molti di voi è così. Appena c'è qualcosina in un attimino più difficile dal punto di vista delle reti, vi appoggiate all'informatico di turno, a quello che ha il negozio di computer del vostro amico che viene e vi sistema le cose. Non è più possibile, non sarà più possibile sicuramente fare meno di conoscenze, di networking, almeno di base. Ed è per questo che rispingo il corso Rete Telegram. Prima di tutto metterò dei video gratuiti e questo lo farò, spingerò, ne ho già fatti nei giorni scorsi se avete visto, spingerò anche su contenuti per tutti. Ma il corso Rete, che non può essere gratuito perché, ahimè, dobbiamo campare tutti e quindi anch'io, è un sistema che vi permette, senza spostarvi, cosa non da poco in questo momento. Siete a casa, vi leggete le vostre lezioni, vi fate i vostri esercizi senza spostarvi. Vi permette di interagire con me, perché attraverso una piattaforma gratuita e di partire da zero, per cui tantissimi di voi che hanno paura, ma io non so niente, non ho mai nemmeno acceso un pc, si parte da zero. Spieghiamo come fare il ping, come accedere a un router da zero, proprio col video da zero. Per cui è un corso per tutti. È un corso che non può, non può, non può mancare nelle vostre, nelle vostre competenze. Non il mio. Ci sono altri corsi, ci sono altri corsi online, però quello che offre il mio è tutto quello che vi ho detto, quindi partendo da zero, con un costo molto basso, perché se andate sul sito sono 84 euro più IVA e che ho deciso nel periodo di all'emergenza sarà possibile dilazionare in 5 rate. 5. Voi basta che, attiverò a breve sul sito il pagamento, selezionate il DILAPAY 5 rate e dovete avere una carta di credito non prepagata, quindi una carta di credito reale col plafon e potrò dilazionarvelo in 5 rate. Quindi 84 più IVA 102,40 mi pare che siano diviso 5 rate. Quindi lo pagate in 5 mesi a partire dal primo del prossimo mese, per cui avete anche la possibilità di dilazionarlo in questo momento in cui anche tenersi i soldini in cassa è importante per tutto quanto. Per cui il corso di reti Telegram è riaperto, lo potete acquistare sul sito, potete mandarmi un messaggio, potete telefonarmi, potete dilazionare il pagamento e avrete uno strumento per studiare le reti da zero. Valuteremo nei prossimi giorni, adesso farò un sondaggio con gli utenti già iscritti, di accelerare il corso, mi riferisco all'ultima classe che è la prima, adesso ha una sorpresa per cui avrà come passare il tempo, per mandare più contenuti rapidamente. Non è detto a questo punto che il corso duri un anno, magari durerà meno perché avendo tutti del tempo magari accelererò la pubblicazione dei contenuti. È aperto a tutti, quindi non solo installatori ma a chiunque, anche dipendenti, anche persone che vogliono formarsi il corso riapre per tutti e lo potete dilazionare in cinque rate. Questo è il massimo sforzo che può fare l'alta tensione per sostenere questo momento gravissimo. Le conoscenze del rete IP saranno sicuramente una delle fondamenta su cui ripartiremo tutti quanti perché ce ne sarà bisogno, ce ne sarà tanto bisogno e sarà sicuramente meglio saper qualcosa che non saperlo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!